Questa corte condanna Salvatore Esposito ad anni due e tre mesi di carcere con l'imputazione di lapina a mano armata l'udienza è chiusa No! Oh figlio mio no! Salvatore! A se sacella e se sguate morenana fa a tos scriveva sempre a mamma rella che a buona sciva mi metteva a fatica e mo soccanata voda carcena donata voda mamma donna mamma perché non è venuta insieme a te rispondiamo te prego fa un presto frato mio perché non può parlare ma che dice si è malato tiene a bere e chiama a me ma gli son donata voda che su vive libertà proprio come un anno fa mo frato mio cura a casa e dice la mamma si son chiusa ca rindanacella e a colpia mia e son di caggia papà ma è stato forte forte ma è stato forte forte abbracciammi le popà salavami mamma mamma mossa ma è stato forte ma è stato forte senza me è stato male e sono male su un caggia non c'era ma è stato che si sida gara mamma che mi fai mi fai saltare ma è stato forte non c'era e ha fatto nulli senza ma è stato mangiare sono l'oro ma è stato Grazie a tutti.